Dobbiamo capire in campo il momento giusto di giocare veloce, il momento giusto di tenere. Una cosa che possiamo fare meglio, se abbiamo vinto, come ho detto prima, ci sono le cose che possiamo dire. Le cose sono queste, ma se giochiamo 4-3-3 o 4-2-3-1, come abbiamo provato, qualche volta non penso più capire. Ma anche i carichi di lavoro che state facendo rispetto alla scorsa stagione, lavorate forse un pochino di...